Il paese va veloce Le caratteristiche queste qua diciamo l'orzo, quello delle cariosside diciamo qua, quello fatto che l'orzo è particolare per la birra rispetto agli altri puoi anche dire che la birra è un prodotto completamente naturale e il colore deriva dall'essiccazione del malto più si è... si, lui sta però sull'orzo, capito? c'è il malto che è il derivato d'oro questo è interessante più l'orzo viene tostato ad alte temperature più la birra diventa nascura questa secondo me è una frase nel processo, non racconti il processo? anche perché bisogna far capire che non c'è un colorante non c'è niente comunque la birra industriale, boom bravo, ti ho apprezzato tantissimo non serio, bravo contenta l'Ainne che non lo peroni che hai detto? non mi sposto al programma, è l'Ainne no, ho detto che la birra industriale è una birra banale vabbè, sì beh, la verità noi siamo di parte quindi qui serve l'Ainne tutti puntuali oggi arrivate alle 5 a montare lo stand quindi